pace e bene cari amici bentrovati questa domenica 2 febbraio celebriamo la festa della presentazione al tempio di gesù che comunemente viene chiamata festa della candelora o della luce gli orientali invece la chiamano festa dell'incontro l'incontro di dio col suo popolo ed è anche la giornata della vita consacrata dunque noi coglieremo alcuni spunti da questo testo tenendo conto di una prospettiva vocazionale anzitutto guardiamo alla scena in sé maria e giuseppe al quarantesimo giorno dalla nascita del primo genito si presentano per adempiere quanto prescritto dalla legge mosaica essenzialmente sono due riti uno per la purificazione rituale della donna uno per il riscatto del primo genito quest'ultimo prevedeva che i genitori offrissero ad un sacerdote cinque sicli in un luogo qualsiasi quest'offerta serviva per riscattare il figlio perché il primo genito era considerato proprietà particolare di dio questo in perenne memoria del fatto che dio nell'esodo aveva preservato i primogeniti degli israeliti e se li era riservati come sua proprietà c'è però qualche dettaglio particolare nella scena della presentazione anzitutto maria e giuseppe non erano obbligati ad andare al tempio di gerusalemme ma scelgono di andare lì e san luca sottolinea il fatto che gesù fa così il suo ingresso nel tempio inoltre non si parla di riscatto ma si parla di presentazione in effetti gesù non viene riscattato cioè questo figlio non sarà proprietà dei genitori ma appartiene in un modo particolare a dio anzi è il figlio stesso di dio dunque san luca cosa vuole mettere in luce che questa scena è l'ingresso di gesù nel tempio e l'offerta pubblica che viene fatta di gesù al padre e il tempio che cos'era era il luogo della presenza di dio il luogo dove il popolo andava ad incontrare dio ed in effetti questa scena segna l'incontro di dio che si fa uomo in gesù con il suo popolo simbolicamente rappresentato da simeone e anna che rappresentano coloro che attendevano la venuta del messia e che lo riconoscono in gesù sin dall'inizio la vita di gesù si configura come una vita offerta al padre vissuta in costante adesione alla volontà del padre donata per ciascuno di noi direi che in questi tre punti abbiamo un po la grammatica essenziale della nostra vita della nostra vita cristiana la prima la vita donata la vita è un dono meraviglioso da donare se la teniamo per noi marcisce se la doniamo fiorisce in secondo luogo è una vita offerta al padre anche noi cristiani consacrati a dio per mezzo del battesimo siamo chiamati con gesù e come gesù a offrirci al padre ci ha detto papa francesco questo nella famiglia nel lavoro nel servizio alla chiesa nelle opere di misericordia ed è una vita offerta al padre vissuta in costante adesione alla volontà del padre dunque anche noi siamo chiamati a donarci generosamente e a compiere la volontà di dio nella nostra vita comprenderla e attuarla tante volte purtroppo molti cristiani che frequentano anche le chiese hanno un'idea della volontà di dio abbastanza distorta e oserei dire macabra cioè quando accadono le peggio cose o comunque episodi dolorosi tante persone sollevano le spallucce sospirano e con faccia triste ti dicono eh è la volontà di dio tante volte questo pensiero nasconde una tentazione quella di pensare alla volontà di dio come una sorta di spada di damocle pronta ad abbattersi a modi ghigliottina sulle nostre teste per cui tra noi e la felicità c'è questa minaccia incombente di dio con la sua volontà niente di più diabolico e distorto la volontà di dio è il meglio per ciascuno di noi colui che ci ha pensati amati e creati che vede molto più lontano di noi sa qual è il vero bene per ciascuno di noi e fa di tutto per condurci a quella pienezza che lui ha sognato per ognuno di noi dio ci ha pensati e creati non solo unici e ripetibili ma con una missione particolare per ciascuno di noi potremmo dire usando un'immagine un po semplice ma penso utile che siamo ognuno come un tassellino unico e preziosissimo di un meraviglioso mosaico se ciascuno si lascia incastonare dove dio l'ha pensato prende senso lui e tutto l'insieme il cardinale newman perciò diceva che ognuno al suo posto è prezioso quasi come un arcangelo al suo allora la volontà di dio non è la spada di damocle ma è il meglio per ciascuno di noi comprendere mettere in atto la sua santa volontà nella nostra vita vuol dire scegliere la parte migliore da qui l'importanza di ascoltare la sua parola e metterla in atto l'importanza di coltivare il rapporto con dio nella preghiera e con i sacramenti lasciandoci condurre docilmente da lui anche quando la sua santa volontà ci conduce attraverso strade e sentieri non previsti anche quando il signore permette che affrontiamo prove e difficoltà sapendo che la sua volontà non è il nostro male né tantomeno la sofferenza in sé per sé ma è il bene che possiamo trarre attraversando proprio quei sentieri entrando in quelle occasioni e dunque dato che oggi è anche la festa della vita consacrata incoraggiare i giovani i figli vivere la vita secondo una prospettiva vocazionale con un atteggiamento di ascolto della volontà di dio di riscoperta che ognuno ha una missione splendida da portare avanti e se dunque dei giovani dei ragazzi o delle ragazze nelle famiglie o nelle comunità fanno passare il desiderio di seguire di più gesù o che avvertono la sua chiamata a seguirlo sulla via dei consigli evangelici ma incoraggiamoli ma che bello se un ragazzo o una ragazza sente la chiamata del signore a seguirlo con tutta la vita se sente che tutto ciò che ha non basta che ha sentito risuonare nel cuore quelle parole meravigliose vieni e seguimi ma chi mai avrebbe paura dell'amore forse che dio non sa saziare fino in fondo il cuore di una persona cosa ci può essere di più bello che dire di sì e fare del proprio cuore un dono indiviso a dio donandosi per il bene di tutti ed essere suo strumento annunziare la sua parola portare la sua tenerezza dove lui vorrà e a dei genitori cosa dice la scena della presentazione è meraviglioso notare come maria e giuseppe in obbedienza alla volontà di dio offrano il loro figlio lo presentino a dio cioè vivono la loro genitorialità non come possesso tante volte purtroppo i genitori anziché educare i figli programmano i figli educare vuol dire tirare fuori un genitore è chiamato a tirar fuori la verità che dio ha scritto nel cuore di quella persona renderlo capace di spiccare il volo come dio ha sognato purtroppo tante volte i genitori invece programmano allora appena il figlio è nato già si è pensato a quale università dovrà fare già in quale casa dovrà abitare scusate il sarcasmo ma a volte purtroppo ci si dimentica che i figli non ci appartengono ma sono un dono e maria e giuseppe non hanno paura anzi offrono questo loro figlio che sarà interamente ed è interamente proprietà di dio e suo figlio quindi incoraggiano i genitori ad aiutare i figli anche a interrogarsi su quale sia lo stato di vita al quale dio gli chiama e qualora il signore chiamasse un figlio o una figlia a seguirlo radicalmente sulla via dei consigli evangelici a non essergli di ostacolo ora capisco dei genitori atei che non riescono a comprendere come sia possibile che dio parli proprio a loro figlio loro figlia e ostacolano la loro consacrazione ma che tristezza quando a mettere i bastoni tra le ruote in maniera ossessiva facendo battaglie psicologiche sono genitori che frequentano la chiesa non hanno compreso che grazia sia che dio stia chiamando proprio il loro figlio la loro figlia per appartenergli totalmente ed essere un dono per tanti vedono soltanto il fatto che non gli darà nipoti o che chissà quali rinunce dovrà fare è vero non sarà padre o madre biologicamente ma sarà padre o madre per tantissime anime per tante persone che potranno trovare rifugio in lui o in lei ed essere strumento di salvezza per tanti e grazie al suo sì contribuirà anche alla salvezza e al bene dei suoi genitori che bello allora riscoprire in questo giorno l'importanza per ognuno di noi di presentarsi per compiere nella sua vita la volontà di dio che non viene a togliere ma a dare pace e bene a tutti